Questo progetto nasce da un cambio di passo nella visione infrastrutturale della regione Marche, che vuole interconnettere tutte le vie di comunicazione, da quelle su gomma, sulle vie navigabili con il porto d'Ancona, a quelle legate all'aeroporto di Falconara, fino ad arrivare alle linee ferrate. E la riattivazione della tratta subappennina italica Fabriano-Pergola, anzi con il collegamento diretto con il capoluogo regionale Ancona-Fabriano-Sassoferrato-Pergola, è l'emblema di questa visione infrastrutturale. Quindi la dorsale adriatica, dove noi stiamo puntando all'alta velocità, all'arretramento della linea ferroviaria, al raddoppio della orte Falconara con la sua velocizzazione, ma una rete ferrata interna che rappresenti un anello unico regionale che sia complementare a quello della costa, per creare sinergie tra costa e introterra che rappresentino uno straordinario volano per l'economia marchigiana. Qui siamo in una galleria di servizio della miniera di Cabernardi, nel comune di Sassoferrato, dove lavoravano migliaia di minatori, migliaia di nostri padri, che hanno costruito l'economia di questo territorio. E noi vogliamo proseguire su quella traccia valorizzando quel lavoro, valorizzando quel sacrificio, promuovendo questi territori. Quindi sviluppo infrastrutturale sia con linee primarie come l'adriatica, ma anche linee secondarie come questa che passa per Sassoferrato e arriva a Pergola. Siamo su questa strada e abbiamo quindi inaugurato un treno, che è un treno turistico non solo di Ancona, Fabriano, Sassoferrato o Pergola, ma il treno turistico delle Marche. Oggi c'è l'inversione definitiva di tendenza di una vecchia politica degli anni Ottanta, quella dei rami secchi. Oggi riaprono come rami verdi, al servizio di un turismo davvero sostenibile, colto, compatibile con le bellezze della provincia italiana. Ma i lavori fatti oggi dal gruppo Ferrovie dello Stato, su queste bellissime stazioni in stile, sul binario, sui muri, sui ponti e sulle gallerie, beh, questo lavoro può servire un domani con una pianificazione attenta a riaprire questa arteria ferroviaria a servizio della valle, anche al trasporto pubblico locale, magari ottimizzando le coincidenze a Fabriano in direzione Roma e in direzione Ancona.